ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo meraviglioso semplicissimo motivo che si adatta molto bene per diversi progetti soprattutto i progetti come cardigan oppure dei maglioni unisex quindi anche i maschili in quanto un motivo molto bello molto fine e diciamo trattenuto viene realizzato creato questo particolare rilievo guardate che meraviglia da una parte si presenta questa è la parte rovescio in cui vedete le mali che si presentano in modo rovescio ma in modo un po elaborato e la parte da davanti abbiamo questo bellissimo e accuratissimo rilievo il motivo in questione è un multiplo di due maglie e due peri perciò veramente facilissimo da realizzare quindi anche i principianti riusciranno a far diventare suo questo motivo per il nostro campioncino noi ora andiamo avviare 20 mali quindi sono 10 volte il motivo più due maglie di vivagno per l'avvio andiamo avviare le maglie con avvio alla nordica ecco qui abbiamo avviato le nostre maglie noi ci troviamo sulla parte del rovescio del nostro lavoro come potete vedere e notare appunto anche da come si deliminano le maglie e abbiamo anche il filo che ce lo segna noi dobbiamo fare questo primo ferro come a missione delle base andando a lavorare tutte le mali e tutto questo ferro a rovescio la male di vivagno noi la spostiamo e successive mali li andiamo a lavorare tutte a rovescio ecco qui che stiamo finendo il nostro primo ferro e abbiamo la nostra base ora possiamo partire con il nostro primo ferro del nostro motivo la male di vivagno noi la spostiamo e ora dobbiamo andare vedere le maglie in coppia da due quindi facciamo questa divisione da due andiamo entrare in asola di due maglie in questo modo come se volessimo andare a lavorare una semplice male a diritto infatti entriamo in asola di due maglie ricaviamo una maglia tiriamo e ricaviamo la maglia diciamo lunga facciamo cadere la prima maglia della coppia ma solo una la seconda rimane sul ferro di sinistra e noi andiamo rientriamo nella sua asola e ricaviamo una seconda maglia ed ecco che abbiamo ricavato le nostre due maglie con questa particolare lavorazione entriamo in asola di due maglie andiamo ricavare una maglia una volta che abbiamo ricavato la prima maglia facciamo cadere la prima maglia della coppia convolta questa la seconda rimane sul ferro di sinistra perché ora noi torniamo a rientrare nell'asola seconda asola e ricavare un'altra maglia ed ecco che abbiamo già fatto due coppie del nostro motivo la stessa cosa anche con la terza prendiamo due maglie entriamo in due asole contemporaneamente ne ricaviamo un'unica maglia una volta che abbiamo ricavato la prima maglia da due andiamo a fare cadere la prima maglia della coppia dopo torniamo a rientrare nell'asola della seconda maglia e solo ora facciamo cadere anche lei e così dobbiamo andare procedere per tutto il ferro per tutte le nostre maglie e questo il nostro ferro di andata il nostro primo ferro grazie a tutti ed ecco qui abbiamo fatto il nostro primo ferro e guardate già che meraviglia che bel effetto che si sta creando ora noi dobbiamo andare fare il nostro ferro di ritorno e qui abbiamo le nostre maglie che si presentano a rovescio e noi non facciamo altro che con il ferro di ritorno lavoriamo tutte le maglie a rovescio quindi i nostri feri numero pari andranno sempre lavorati a rovescio ed ecco qui dopo aver fatto il ferro di ritorno abbiamo visto come creare questo bellissimo motivo ora non dobbiamo fare altro che andare mantenere questa alternanza di due feri ferro di andata e ferro di ritorno per tutta la lunghezza e disidrate del nostro progetto quindi i feri dispari sono i feri di lavorazione in cui andiamo entrare al naso di due maglie e ricavare sempre due maglie ma lavorandoli in questo modo come abbiamo visto e il ferro di ritorno andremo a lavorare le maglie semplicemente a rovescio ed ecco qui così si presenta il nostro motivo dopo che abbiamo portato per alcuni centimetri appunto l'alternanza di questi due feri speriamo che il motivo vi è piaciuto che siamo riusciti a spiegare tutti i passaggi e al prossimo video tutorial grazie a tutti per aver seguito